Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi vi racconto la storia di Mida e Jules Loro due insieme lavoravano insieme per il team ombre Insieme erano grandiosi, lei era il braccio e lui la mente Un giorno il capo delle ombre rinchiuse Jules in uno spazio-tempo Mida è infuriato se non andò creando il team spettri Dopo anni di lavoro creo il dispositivo in grado di assolvere l'energia della tempesta e di far riuscire a questo spazio-tempo Soffrendo dalla mancanza di Jules lo attivò Non è andato tutto bene perché appena il dispositivo fu spento L'isola di Fortnite fu inondata da un tsunami gigante Dopo tantissimo tempo in mezzo al mare Mida in una zattera fu mangiato da uno squalo La zona finisce un po' brutalmente ma è questa la fine Quindi ciao ragazzi